Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 4 dicembre, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Ancora il salva stati dopo il dialogo di ieri si fa per dire in Parlamento in cui se ne sono date di tutti i colori. Di Maio avrebbe convinto sostanzialmente Conte, che come un giunco si flette più che spezzarsi, avrebbe convinto a rimandare, a prendere due o tre mesi di tempo. Oggi i giornali tutti quanti mettono in evidenza il fatto che Di Battista sarebbe d'accordo con Di Maio. Io non riesco a capire bene qual è il grande senso politico di questa cosa, non perché abbia nulla contro l'uno o contro l'altro, ma perché Di Battista, fino a prova contraria, è un signore che fa le villeggiature in giro per il mondo, legittimamente ovviamente, e non esiste ancora un partito lì e sarebbe un po' diverso se fosse d'accordo con lui Grillo. Però a tutti noi piace questa idea che Di Battista ha risposto a un post di Facebook, perché in realtà il non detto è che Di Battista è a capo di una corrente, evidentemente minoritaria, all'interno del Movimento 5 Stelle e anti Di Maiana, quindi il fatto che siano d'accordo contro Conte è una roba importante. Oggi vi segnalo che sul Salva Stati c'è l'ultima riga, l'ultima riga, in cui il Corriere della Sera parla con Regling, che è il direttore di questo fondo Salva Stati, e all'ultima riga, ultima del Corriere della Sera, c'è scritto il motivo per il quale molti di noi sono preoccupati riguardo non alla modifica di questo fondo Salva Stati, ma all'esistenza stessa di questi meccanismi europei, perché il direttore del MES, ultima riga del Corriere della Sera, Toc Toc, Regling, dice, errore di 30 anni fa, fatto con Basilea 1, dire che i titoli di Stato dei paesi europei non abbiano alcun rischio e quindi non assorbano capitale. È una cosa un po' complicata, ma questa è la grande paura di tutti i banchieri italiani, di tutti quanti i politici avveduti italiani, e cioè che siccome 400 miliardi di soldi di debito pubblico italiano sono in mano alle banche, se quello che dice Regling, che è il direttore del fondo Salva Stati, e cioè che i titoli di Stato non devono essere considerati a rischio zero nei bilanci delle banche, a noi ci fanno un mazzo così! Avete capito cosa pensa il direttore? Cioè noi, può piacere o non piacere il fondo Salva Stati, ma il suo direttore fa terrorismo finanziario nei confronti del nostro debito, magari anche legittivamente, ma lo fa. Tremonti oggi, recuperato da Renato Farina su Libero, dice che il fondo Salva Stati è il primo di una serie di errori commessi in Europa, interessante perotti, perché va a fare i calcoli, io non sono in grado di farli, ma lui li ha fatti e c'è da fidarsi sulla Repubblica, su quanti soldi in realtà l'Italia ha dato alle banche tedesche e francesi via salvataggio della Grecia. Sentite i calcoli di Perotti, perché questa è una delle altre grandi cose di cui si dibatte in queste ore, ed è un cavallo di battaglia di Meloni e Salvini, e dice che tra il 2010 e il 2015 sono stati fatti i prestiti alla Grecia, da questo fondo Salva Stati, per 206 miliardi di euro. Di questi 206 miliardi, 56 miliardi sono finiti alle banche dell'Eurozona, quindi non 200 miliardi alle banche, ma 56, che mica sono pochi, sono quella sessantina di miliardi forse di cui parla Borghi ogni tanto. Ma in realtà i 60 miliardi che sono finiti alle banche dell'Eurozona, soltanto si fa per dire 36 alle banche franco-tedesche. Quindi, primo dato, quanto sono finiti alle banche euro-tedesche? Il salvataggio alla Grecia ha comportato 36 miliardi finiti alle banche franco-tedesche. Ma c'è da dire qualche cosa, dice Perotti, che in realtà di questi 36 miliardi soltanto una parte è stata pagata dall'Italia, perché l'Italia non è azionista al 100% di questo fondo, ma al 18%. Quindi, dice Perotti, la nostra quota di aiuti alle banche, semmai franco-tedesche, è 6,5 miliardi. Perotti conclude dicendo che anche alcune banche italiane erano esposte sulla Grecia e anche loro sono state ristorate dei loro crediti. E quindi il contributo netto italiano è stato di 3 miliardi, che comunque non è poca roba. Cioè, questo fondo salvatati ha aiutato le banche tedesche per 6,5 miliardi, soltanto per quota italiana, per quota europea 36 miliardi. Insomma, io direi che qualche vantaggio le banche franco-tedesche le hanno avute, anche se non è così grande come quello che dicono Salvini, Meloni e Borghi nelle loro, diciamo, inveterate. Però, anche prendendo i dati di Perotti, mi sembra che ci sia stato questo aiuto. Del Rio dice oggi a Repubblica, ministro pesante, ma uno di quelli che sempre, insomma, la spara, Di Maio ci ricatta e il PD non teme elezioni. Ferrara, invece, ha una posizione diversa oggi sul fatto e dice che bisogna denunciare il bluff di Di Maio. Non può fare campagna, diciamo, una campagna elettorale anti-europea, perché comunque la concorrenza di Salvini sarebbe molto più forte. Quindi Di Maio in realtà ha un bluff senza punti in mano. Questa è la teoria di Ferrara. Non c'è e non ci sarà mai una convivenza strategica, dice però anche Ferrara, tra PD e Movimento 5 Stelle. Toc toc, Ferrara! Ma non eravate voi quelli che ci spiegavate che il PD avrebbe migliorato il Movimento 5 Stelle e che questo governo era, diciamo, la cosa migliore che si potesse immaginare? E oggi ci spiegate, finalmente, quello che noi abbiamo capito, forse meno politologi, scriviamo meno bene, qualche mese fa, che la fusione tra Movimento 5 Stelle e questi qua è una cosa da pazzi. Vabbè, intanto noi che abbiamo recuperato il ruolo europeo, grazie al PD, grazie ai nostri ministri, oggi vengo a scoprire che nel vertice Nato di ieri, in cui ci si vede con la regina, il principe Carlo, le solite foto di rito e tutto quanto, beh, insomma, c'è stata l'unica cosa che poteva essere interessante, una riunione sulla Libia a cui hanno partecipato Francia, Germania, Turchia e il Regno Unito. E l'Italia non ci stava. L'Italia ieri alla riunione non c'era alla riunione per il futuro della Libia. È vero che lì decide tutto Trump e oggi si vedrà conte con Trump, però, insomma, l'idea che l'Europa abbia fatto fuori l'Italia dalla riunione sulla Libia dà il senso di come questo governo europeista porta a casa sempre un risultato. L'altra vicenda che noi a Quarta Repubblica abbiamo raccontato più volte è quella dei migranti che sulla carta vengono presi dai tedeschi Cazzate! Scusate, 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 cavolate, cavolate. Oggi due giornalisti, diciamo, di un network internazionale di giornalisti di inchiesta sul fatto ci spiegano, se andate a vedere dove sono finiti i tedeschi che avevano promesso di prendere sei mesi fa i profughi che Karola Rachete, l'eroe dell'Europarlamento, ha portato con tanto sprezzo del pericolo cercando di uccidere i finanzieri in Italia. Beh, insomma, l'applauso a Karola Rachete, brava, di tutto il Parlamento europeo compreso, immagino, gli europarlamentari tedeschi. Zero! Gli hanno individuati gli 11 emigranti che sarebbero venuti ad andare in Germania di quei 53 di Karola Rachete, quanti ce ne sono presi i tedeschi? Zero! Sono ancora là, ovviamente. Vabbè, fantastica la cosa sulla tassa sui giganti del web. La Francia l'ha già provata a luglio, le foto di tutti i giornali sono su Trump con una foto durissima, proprio dall'idea di quanto siano distanti Trump e Macron nell'incontro nato di ieri con Macron che sembra seduto come un calciatore o come quelli, vi ricordate quei due nerboruti uomini di colore che poi erano, pare, due delinquenti non so di quale isole del vecchio impero francese? Ecco, quello sembra seduto come loro su questa sedia vicino a Trump però Trump dice ragazzi, se voi vi azzardate a fare tasse su web noi vi facciamo un mazzo così con tazzi in Europa. Staremo a vedere come finirà questa roba qui. Poi c'è l'altra grande storia che il giornale ovviamente riprende dalle iene e cioè il fatto che, vedete, la cosa è un po' complicata ma in realtà Conte è diventato professore e il presidente della commissione che lo ha giudicato professore era Alpa. Molti sostengono che Conte e Alpa fossero già nel 2002 soci d'affari, più o meno o comunque uno pupillo dell'altro e che quindi, secondo le nuove norme anticorruzione che tanto i grillini amano beh, sostanzialmente sarebbe nulla quel concorso per il quale il presidente della commissione nomina il suo socio d'affari professore. No? Mi sembra anche a voi una cosa un po' strana che è il socio d'affari però Conte ha detto io non ero mai stato associato ad Alpa a figurarsi e le iene tirano fuori una fattura, una parcella una proposta di parcella, risponde Conte in cui Conte e Alpa firmano insieme nel 2009 questa parcella ovviamente il 2009, dopo il 2002 però quello che dicono quelli delle iene ragazzi, questa roba qui prevede anche una lettera di Conte e di Alpa Conte ancora non professore e Alpa professore insieme per difendere una persona quindi insomma le iene continuano a dire ragazzi, eravate nello stesso ufficio lavoravate insieme sostanzialmente eravate culo e camicia e poi dopo il professore diventa professore perché l'altro è presidente della commissione io non so i termini di legge ma secondo la dottrina grillina e la dottrina del fatto quotidiano tipo prestiti che ha ricevuto Renzi gli avrebbero fatto un mazzo così se non fosse stato Conte e il Movimento 5 Stelle e non fosse il l'arci Conte tanto amato da travaglio legge sulla prescrizione Zingheretti e questa è la notizia di oggi dice non siamo così d'accordo a far passare questa legge assurda, aggiungo io fatta da leghisti e grillini la buongiorno dov'era toc toc buongiorno che fai tanto la fenomena dov'eri quando si votava questa legge e tutti noi dicevamo che era una minchiata togliere la prescrizione dopo il primo grado ma comunque oggi Renzi sul messaggero dice che saranno addirittura pronti a votare insieme a Forza Italia la legge Costa che prevede il rinvio di questa prescrizione beh stupenda la storia oggi di Repubblica bisognerebbe approfondirla sul fatto che i pensionati oggi passano anche 14 mesi prima di avere il primo assegno di pensione se così fosse visto che è un loro diritto sono loro soldi sono loro contributi è uno scandalo nella manovra intanto spunta secondo il Sole 24 ore questa cosiddetta Robin Tax una tassa del 2% in più sulle tasse che pagherebbero tutti i concessionari autostradali elettrici, ferroviari, aeroportuali sui loro conti staremo a vedere ultima notizia ultime due notizie riguardano l'economia una è Unicredit che manda a casa 5500 persone dice oggi qualcuno non mi ricordo esattamente chi piace alla finanza non piace ai sindacati ovviamente questa operazione ma la Puledda ci racconta su Repubblica che negli ultimi 12 anni le banche hanno licenziato 74.000 dipendenti per la verità se le sono pagati loro con i loro fondi interni il resto è il fatto che questi grandi manager milioni di euro che abbiamo dato loro tutti tranne forse intesa San Paolo beh questi grandissimi manager liquidati a milioni di euro 10 anni fa 5 anni fa continuavano a comprare sportelli allargare le loro banche non capendo che il digitale li avrebbe distrutti loro ora se ne sono usciti con i loro milioni e nel frattempo dovremo affrontare le cazzate strategiche che hanno combinato tra gli applausi nostri dei giornalisti che tanto li rispettiamo e il Cannes racconta oggi chi è che lo racconta oggi qualcuno forse il foglio molto divertente un pezzo del foglio doveva essere il figlio il pronipote che liquidava l'azienda di famiglia in realtà più che chiudere la fabbrica ha aumentato il suo perimetro grazie a Marchionne e soprattutto è riuscito a comprarsi quello che doveva vendere il giornale di famiglia alla stampa si è comprato financo la Repubblica e quindi oggi il Cannes diventa e ritorna nell'editoria i maligni sul foglio oggi sostengono forse ha comprato Repubblica per evitare che stampa Repubblica insomma una certa stampa italiana possa parlare male della Fiat quando sarà costretta a chiudere fabbriche in Italia dopo l'accordo con la Peugeot questo è una malignità qualcuno la sostiene la vedremo nei fatti nei prossimi mesi direi che per oggi è tutto ringrazio i tanti amici che ieri ci hanno seguito a San Donà di Piave per la presentazione delle tasse invisibili una platea straordinaria e insomma questo Veneto è fantastico per il mio libro un abbraccio a tutti quanti ci vediamo domani con la zuppa di porro